Grazie a voi che avete sempre la bontà di invitarmi. Devo dire che l'esperienza degli incontri precedenti è stata molto, molto positiva, meno per me è stata un'esperienza di crescita veramente importante, veramente bella e di questo vi ringrazio ancora. E il tentativo appunto di fare questo passo in più è una sfida, devo dire, che mi riporta un po' più insomma alle mie radici, mettiamola così, che però allo stesso tempo devo dire un po' nasce già, è nato già all'interno degli incontri precedenti, perché in effetti preparando quegli incontri e poi parlandoli, mettendoli in atto con voi e soprattutto poi anche con le vostre domande, mi sono accorta di quanto poi profondamente fosse già radicata un po' la presenza della filosofia all'interno di una visione del mondo, di una visione della salute e di una visione della malattia, qual era stata delineata per quanto a tratti vastissimi, generalissimi, con il poco tempo che abbiamo avuto e quindi necessariamente incompleta e imprecisa, però diciamo che già si era focalizzata un po', cioè era un po' lì nell'aria, questa relazione anche a volte esplicitata tra appunto naturopatia e filosofia e quindi devo dire che in effetti quando tu mi hai fatto questa richiesta è come se mi si fosse poi un po' accesa una lampadina, ho detto beh sì, in effetti è così, cioè ci sono dei legami, ci sono dei modi in cui filosofia e naturopatia sono legate e si in qualche modo possono illuminare a vicenda, no? Ecco, la prima parola a cui ho pensato quando tu mi hai proposto questo intervento sicuramente è stata l'idea di abitare, cioè quando tu mi hai detto guarda la prossima, insomma l'edizione successiva si chiamerà prendere posto, la prima cosa a cui ho pensato un po' per la mia formazione, per i miei studi, per la relazione di lavoro e di studio e di affetto che c'è con il professor Petrosino che ha studiato tantissimo questa categoria, è stato appunto riflettere immediatamente sulla appunto sulla categoria dell'abitare e ho anche pensato che forse si potrebbe dire che l'atto del prendere posto non è qualcosa di facoltativo per l'essere umano, cioè partirei un po' da qui, cioè il prendere posto è per certi versi una pratica dell'abitare, forse addirittura un suo sinonimo, cioè l'uomo forse per definizione è un po' colui che abita e quindi che prende posto, cioè che è chiamato quantomeno a prendere posto, e prendere posto per noi non è un'opzione, questo credo che sia venuto fuori un po' anche l'altra volta con gli incontri che abbiamo fatto, e anche il non prendere posto è una scelta, non so come dire, scegliere di stare in disparte per certi versi è comunque un modo di prendere posto, il problema forse è come si prende posto, come prendiamo posto, e quindi da qui sono partita per fare poi un tentativo, badate bene, io vi ringrazio, ringrazio tantissimo Antonella che ha detto che questa sera avete fatto una buona scelta, ma insomma mi auguro di meritarmela questa affermazione perché non lo so, perché appunto sono i primi passi, sono i primi tentativi, e devo dire anche subito che questa sera tra i due incontri, forse sarà quello un pochino più sbilanciato a favore della filosofia, tra i due incontri, però insomma adesso parto, parto dalla mia, ho preparato una piccola presentazione, poi voglio far vedere un paio di video, quindi vediamo se riusciamo a condividere tutti i materiali, inizio a condividere lo schermo, e vediamo un po'. Voi non mi vedete però vero? Ancora, proviamo così? Adesso vedete il mio schermo? Ok, perfetto. Sì, adesso sì. Benissimo, allora partiamo da qui. Vedete che riduco il nostro schermino, purtroppo da questo momento in poi non vi vedo, quindi se c'è qualche cosa battete un colpo, vediamo se riesco a mantenere, meglio che lo tolga. Allora, chi ha partecipato agli incontri già la prima volta, ritroverà un amico, un amico mio, nel senso che sono una sua grande fan, che è Franco Arminio, ve lo ricorderete, dalla prima volta sono partita proprio con lui e anche oggi voglio partire da lui, perché mi ha dato un importante spunto per progettare questo incontro, che adesso prendo questo impegno, sono le nove e un quarto, visto che l'altra volta sono stata molto discola con i tempi e cercherò di essere più lì già al mio dovere, quindi finire al massimo entro le dieci e un quarto, casomai richiamatemi per favore, grazie, perché su questo poi tendo ad andare lunga. Però, allora, partiamo da qui, partiamo da un'altra bellissima, secondo me, citazione appunto di un brano di Franco Arminio, che è un estratto, diciamo, da un suo libro, e ve lo leggo, poi ne parliamo un momento. Un uomo che arriva in ospedale non è un uomo, è un mondo. Curare un essere umano significa curare una persona, una persona immersa nel mondo, e il mondo che è immerso in lui. Non esistono separazioni. Curare un uomo significa curare tutto, prendersi cura del tutto che è in tutti. Un buon medico dovrebbe essere anche un poco filosofo e poeta e teologo. Un essere umano non è mai una cosa piccola. La sua malattia è la malattia dell'aria. È un piccolo guasto nel moto degli astri. Un ospedale, in realtà, è un osservatorio astronomico. È anche un reparto di geologia. La malattia viene dalle radici, dal fitto mormorio che alimenta la vita degli organi. Negli ospedali si deve tenere conto del respiro, prima di tutto. Un corpo respira il mondo, ed è respirato dal mondo. In questo scambio perenne e implacabile, ci può essere un guasto. A un certo punto c'è sempre un guasto. La medicina cosmica serve a diluire la paura, a farci capire che noi non perdiamo la salute, la cediamo agli altri. E quando moriamo, semplicemente diamo il cambio, non ci assentiamo. Partecipiamo al gioco in una forma che non sappiamo. Ma il gioco non finisce per nessuno. Allora, devo dire che ogni tanto mi capita questa cosa, no? Cioè, di leggere Franco Arminio e dire, ah, ok, caspita, questa cosa qui, come l'ha detta lui, ecco, sappiate che questa è la più bella e precisa definizione di approccio olistico che io abbia mai incontrato nella mia esistenza, no? Nonostante gli anni di scuola, i libri, gli studi, tutto quello che volete, qui c'è la migliore definizione di approccio olistico. Il fatto che lui dica che un uomo che arriva in ospedale non è un uomo, è un mondo, cioè, meriterebbe da sola un'intera conferenza, cioè, se non addirittura una sessione di studio. Perché qui dentro, e sarà qualche cosa che noi andiamo ad esplorare più nel dettaglio questa sera, si trova veramente un po' un sunto della visione antropologica che c'è alla base della naturopatia. Ecco, questo sarà il tentativo stasera, un primo tentativo, poi ce ne sarà un secondo, è una prima parte ed ha tutti i limiti del mondo. Però, diciamo che se una cosa mi è emersa con molta forza la scorsa volta, preparando gli incontri, è un po' questa, cioè che alla base della visione naturopatica dell'esistenza c'è una antropologia filosofica ben precisa, quindi una concezione del mondo e una concezione dell'universo, è una concezione dell'uomo molto, molto, molto potenti, molto significativi. Sono molto grata ad Antonella per l'introduzione e questo richiamo a far, diciamo, presente, a tenere insieme, diciamo così, la necessità di espandersi e di ricercare l'intimità. Questo è un po' effettivamente quello che c'è qui, che ho cercato di portare qui stasera e tu, Anto, hai parlato di esperimenti di equilibrio. Ecco, questi esperimenti di equilibrio era uno dei titoli possibili che avevo pensato per i nostri incontri, quindi questa cosa è molto, molto, molto interessante come risonanza. È un esperimento di equilibrio all'interno di questo mondo che ciascun uomo è, quindi ciascuno di noi è, e allo stesso tempo però all'interno di un universo che non si esaurisce in noi stessi. È vero che un uomo non è un uomo, ma è un mondo. Allo stesso tempo però quell'uomo non esaurisce mai il mondo. C'è sempre qualche cosa che è al di là e al di fuori di questo mondo. Certamente è vero che, come ritroviamo scritto qui, e abbiamo visto anche l'altra volta per chi c'era, che non esistono separazioni. Cioè non esistono separazioni, attenzione, qui ragioniamo in termini filosofici, bisogna essere molto chiari, no? Ciascuno di noi è un'entità distinta del mondo, cioè io sono io, Glenda e Glenda, Antonella e Antonella, Carlo e Carlo, su questo nessun dubbio. Ciò che ci distingue anzitutto dall'altro è la nostra identità, cioè la nostra determinazione, cioè l'essere in un certo modo e non in un altro, è la nostra natura specifica. Però allo stesso tempo abbiamo visto che comunque sia, cioè siamo tutti interrelati, no? C'è una relazione copresente, sempre presente e inevitabile tra me e l'altro che costituisce il mondo, no? che a sua volta costituisce un altro mondo da me e su questo poi ritorno, non vi preoccupate, adesso non vi sembra magari di non cogliere completamente quello da cui sto partendo. Poi ci ritorniamo. Ecco, però mi premeva proprio partire da qui, cioè la cura non può mai prescindere da il mondo in cui quell'uomo è inserito. Vi ricordate? Questo l'avevamo già accennato, però detto come detto qui, cioè la cura non è mai relativa al singolo pezzo di corpo, per esempio, alla singola parte, no? Non è mai, se vi ricordate, dicevamo non c'è mai un braccio rotto, c'è sempre il braccio rotto di qualcuno, quel braccio è attaccato sempre ad una storia, ad un'esperienza, ad una famiglia, ad una relazione, ad un lavoro, ad un posto nel mondo, a proposito, no? Di prendere posto. È bellissima, secondo me, la metafora appunto che la malattia, che l'ospedale sia un osservatorio astronomico. Attenzione a quello che dice dopo, perché dice che è un reparto di geologia, bellissimo. E anche qui ci richiamiamo al concetto di malattia secondo la naturopatia. La malattia non è mai, vi ricordate, un evento a sé stante e qualche cosa che va sempre a radicarsi in un'altra serie di aspetti, no? Parlavamo l'altra volta del vaso che è fatto da tutta una serie di elementi, no? Del vaso che è costituito a tutta una serie di strati, vi ricordate i tre strati del vaso, i buchi che ci possono essere in questo vaso, quindi c'è sempre qualche cosa alla radice della malattia, non fosse altro che la storia di quell'individuo che ne soffre, eh? Per essere proprio per limitarci a il minimo a cui possiamo fare riferimento. E un altro concetto, quindi il primo è che si cura sempre l'uomo e con l'uomo il mondo che si porta con sé. Secondo concetto che c'è sempre una radice, la malattia è sempre radicata da qualche parte, no? Terzo concetto molto bello, da cui ero contenta di partire per l'incontro questa sera è che c'è che tra noi e il mondo fuori da noi c'è un respiro, no? C'è sempre questo movimento, questo movimento, questo scambio perenne e implacabile, continuo. Cioè, questo cosa ci sta, cosa ci dice? Ci dice che noi non siamo mai e non possiamo mai essere isolati da tutto quello che ci circonda. C'è uno scambio continuo, no? Pensiamo semplicemente anche partendo proprio dalla base, dallo scambio della respirazione tecnicamente intesa. Io mi nutro, no? Dell'aria che c'è fuori da me, la immetto in me e la reimmetto fuori da me, no? La butto fuori, imprendo qualche cosa e poi la butto fuori e così via, così, costantemente per tutta la nostra vita. Pensate a questo dal punto di vista metaforico che cosa significa? Che cosa significa che io prendo qualche cosa fuori da me, lo utilizzo per vivere, bene nutro metaforicamente parlando e non e poi rispedisco fuori qualche cosa, no? Che cosa faccio entrare e che cosa faccio uscire. Anche su questo potremmo fare tutto un enorme ragionamento. Però dice Armidia a un certo punto questo scambio perenne implacabile può guastarsi. Ci può essere qualche cosa che non va, no? C'è qualche cosa che si rompe, ok? E in questo però attenzione non c'è nulla che ci debba così angosciare, così preoccupare perché in realtà si tratta semplicemente di andare a vedere che cosa ha causato questo guasto. Vi ricordate forse l'altra volta la questione della spia, no? Se io visualizzo una spia sul croscotto della macchina devo certo mi preoccupo perché dico c'è qualcosa che non va benissimo, però devo andare a vedere cosa c'è dietro quella spia. e quindi lavorare su questo punto. Però la cosa interessante qui al di là di questo è l'idea appunto dell'interrelazione continua anche nel guasto. Anche nel guasto. Questo è interessante. Quindi partivo da questi tre concetti perché appunto mi proprio come dire rappresentano proprio la concezione olistica della vita che tutto è legato a tutto e ricordate che ciascuno nella propria individualità e in ogni caso è legato al respiro dell'altro e al respiro dell'universo e che soltanto considerando la totalità dell'individuo la totalità del suo mondo noi possiamo pensare di fare un intervento mirato sulla malattia se è il caso oppure sul mantenimento della salute. Ricordiamoci se lo faccio soltanto un certo velocissimo perché magari non ci fosse stato l'altra volta che qui intendiamo per salute uno stato dinamico di completo benessere fisico psichico e sociale ok? Non sto a scendere nei dettagli perché risulterei noiosa per chi l'ha già sentito però ecco ricordiamoci partiamo sempre da questo punto di vista che la salute non è semplice assenza di malattia ma è qualche cosa che coinvolge tutte queste tre dimensioni la dimensione fisico-corporale la dimensione psichico-emotiva e la dimensione sociale abbiamo già visto l'altra volta tutta la questione della relazione con la medicina allopatica quindi non ci ritorno semplicemente vorrei ripartire da qui e cioè ricordiamoci quali sono le tre funzioni della naturopatia prevenzione educazione e promozione della salute da qui vorrei partire però il punto di partenza a parte Arminio a cui tenevo particolarmente volevo che fosse anche questo cioè la rappresentazione in qualche modo del allora il chi secondo la la medicina tradizionale cinese e non solo secondo il taoismo più generalmente è il soffio è diciamo l'energia vitale ciò che permia di sé l'universo che fa sì che le cose siano vive ok anche qui semplifico ovviamente al massimo però perché vi ho presentato qui questo è l'ideogramma che rappresenta il chi e rappresenta in qualche modo tutto quello che abbiamo detto fino adesso cioè di che cosa dobbiamo tenere presente quando si tratta di essere umano di universo e di essere umano in relazione con l'universo esattamente del ci ovvero dell'unione tra respiro e riso che bellissima questa cosa io veramente l'adoro perché è una rappresentazione perfetta guardate qui vi faccio vedere l'ideogramma del chi è composto da questi due elementi che vedete bene in questa slide un elemento superiore soprastante diciamo così che rappresenta il vapore ovvero vapore si intende anche ovviamente tutti i significati correlati di tipo spirituale quindi soffio vitale soprattutto respiro eccetera tanti vedete qui nella slide lo dice vapore ovvero il simbolo dell'aria e della spiritualità e dall'altra parte sotto questo vapore poi come se fosse al riparo c'è il riso il riso inteso proprio come riso come alimento come alimento come chicco di riso che in questo caso significa sostentamento significa vita cioè nell'energia universale nell'ideogramma abbiamo rappresentati tanto l'aspetto materiale quindi il riso il nutrimento tanto l'aspetto spirituale l'aria il vapore che ci tiene in vita quindi questi due aspetti insieme non vanno sono due come dire anche in questo caso vorrei partire da una specifica rispetto a quello che ho detto l'altra volta rispetto a che cosa si occupa a cosa di cui a ciò di cui si occupa la naturopatia cioè questi due aspetti qui tu non sei vivo soltanto perché mangi soltanto perché hai un corpo soltanto perché ti nutri perché hai una come dire sei fatto di materia ok sei vivo perché c'è questa c'è questo loro chiamano appunto soffio vitale che noi possiamo chiamare tranquillamente anima che possiamo chiamare spiritualità cioè ciò che in qualche modo ci fa essere quelli che siamo no è l'unione sostanzialmente per utilizzare termini più noti di soma e psiche quindi di corpo e psiche mente spirito anima chiamatela come volete ok quindi quello questo è quello di cui dobbiamo tenere conto cioè filosoficamente parlando qua ci inoltriamo un po' di più nel nostro ambito abbiamo sempre a che fare e qui diciamo che la filosofia su questo ha detto e molto anche sulla questione dell'unione no tra spirito e materia che se potessimo potremmo fare un corso di un anno sui rapporti tra spirito e materia all'interno della storia della filosofia per cui non mi ci soffermo però teniamo conto che la visione filosofica alla base della naturopatia questo sostiene cioè che ci sia una strettissima connessione tra corpo e psiche che non possono stare l'uno senza l'altro e che si influenzano reciprocamente e che sono in qualche modo la radice di tutto ok poi nello specifico loro nel caso della medicina tradizionale cinese i due termini anche si definiscono come yin e yang forse l'avrete sentito immagino cioè l'aspetto più materiale materico lo yin per lo più terrestre più pesante più corporeo e l'aspetto invece yang quello più spirituale elevazione tutti gli aspetti diciamo così immateriali della nostra esistenza ora per integrare un po' questo questo primo punto di vista che vi sto dando appunto il fatto che stiamo parlando di un essere vivente che è così composto e così composto significa che non si può prescindere dal considerarlo in entrambi questi aspetti ok quindi abbiamo a che fare con ricordate anche qua una dimensione olistica cioè una dimensione di unione tra questi due aspetti che non possono essere scissi e che soprattutto non possono essere nemmeno considerati scissi non ha senso non ha senso considerare dal punto di vista naturopatico il corpo senza la psiche senza la parte spirituale senza l'anima senza le emozioni vi ricordate l'altra volta la citazione di Arminio diceva non è lo stesso avere mal di cuore essere felici e avere mal di cuore ed essere angosciati no l'emozione influenza lo stato del corpo e c'è un'interrelazione tra questi due aspetti a cui non possiamo mai rinunciare ora vi invito a fare un passetto più avanti un passo più avanti c'è c'è un altro aspetto da considerare perché noi ragioniamo soprattutto per quanto riguarda diciamo ragioniamo sull'umano ok ritorniamo un po' all'umano e l'umano che di cui si occupa la naturopatia di cui si occupa la filosofia e la sua relazione appunto con il mondo con l'universo per ragionare un po' su questo aspetto quindi un umano teniamo presente che è sempre quello che vedrete qua in questo ideogramma pensatelo così è sempre respiro e riso guardate che dal punto di vista metaforico simbolico perché poi dal punto di vista naturopatico anche si declina per esempio nell'altissima considerazione che si ha dell'aspetto materiale cioè non è che conta soltanto il respiro il soffio il vapore vitale la funzione vitale lo spirito eccetera ma anche tantissimo il fatto che c'è sempre bisogno di riso e il riso come si declina è certo che è la nutrizione è certo che è come ti alimenti che cosa mangi come lo mangi vi ricordate già accennavamo l'altra volta mangi come mangi come prepari il cibo eccetera ma qui il riso vuol dire anche il nutrimento in generale nella vita cioè tu di che cosa ti nutri per esempio che cosa guardi in televisione che cosa guardi al cinema che cosa leggi che cosa studi di che cosa ti nutri di quali pensieri ti nutri che cosa ascolti che musica ascolti di cosa parli che cosa no cosa metti in circolo quindi il riso da questo punto di vista metaforicamente certo il cibo ma il cibo tanto quello in qualche modo così materiale per così dire quello che c'è in tavola sia però anche il cibo per la mente il cibo per lo spirito appunto perché le due cose si devono alimentare l'una con l'altra ecco scusate insisto un po' su questo punto perché lo trovo meraviglioso e tra l'altro trovo che sia un aspetto che propriamente deriva più dalle filosofie orientali perché come vi dicevo questa concezione del ci arriva dal taoismo quindi apparentemente potrebbe essere distante dalla nostra dalla nostra cultura completamente occidentale ma come vi dicevo in realtà pensate soltanto ai presocratici adesso Antonella citava nel corso di storia delle filosofie antiche prima di iniziare presocratici da cosa che cosa hanno pensato da che cosa hanno pensato che derivasse l'universo quando si sono fatti per la prima volta la domanda perché esiste qualcosa e non esiste nulla hanno pensato a questo esattamente al respiro al soffio all'archè l'archè il principio di tutte le cose era appunto questo soffio questa energia vitale che permeava di sé tutte le cose che rendeva le cose quelle che erano per esempio Talette pensava che fosse l'acqua altri hanno pensato che non so che fosse l'aria che fosse la struttura matematica delle cose come Pitagora però tutti hanno pensato la stessa cosa all'inizio cioè da dove arriva qual è l'origine di tutto qual è l'origine delle cose l'origine del mondo perché esiste l'universo invece del nulla perché c'è questo soffio vitale perché c'è questo soffio vitale e quindi tra l'altro divino che in qualche modo è l'origine di tutte le cose quindi in realtà non pensiamo che sia così distante da noi poi anche tutta la cultura in realtà dell'anima intesa proprio come soffio come respiro eccetera cioè non è lontanissima da noi anzi però è interessante qui che si tengano insieme i due aspetti perché quello che siamo bravi a fare noi occidentali tendenzialmente è quello di dividere le cose scotomizzarle separarle da una parte questo da una parte quell'altro perché siamo figli di Cartesio che dice a un certo punto guardate che va bene materia da una parte spirito dall'altra e andiamo avanti siamo esseri come dire divisi in questo si è iniziato a fare una dicotomia una separazione cioè dobbiamo occuparci soltanto delle cose dell'anima eccetera il corpo lasciamolo lì non è Cartesio che l'ha detto per primo però diciamo che si ricorda questa divisione la parte pensante la cosiddetta res cogitans per lui assume una rilevanza assolutamente preeminente rispetto al resto della Cartesio del corpo non interessa nulla e da lì si dirama un po' tutto il pensiero occidentale che porta a fare questa separazione vabbè scusate divagazione ma questo poi va bene è la storia della filosofia che si impadronisce di me in alcuni momenti e viene fuori scusate rientro nei ranghi vi volevo dire quindi facciamo un passaggio ulteriore questo uomo fatto così fatto di questa duplice natura non solo l'uomo tutto l'universo è fatto così come si definisce però come possiamo definirlo come possiamo fare in modo di caratterizzarlo in maniera ancora più precisa ecco qui richiamo una concezione che sicuramente alcuni di voi conoscono perché appunto è quello che è il pensiero filosofico che a me è più vicino che è il pensiero appunto del professor Silvano Petrosino che conoscerete che in qualche modo poi ha dentro di sé tutta una grande tradizione da Levinas ad Heidegger passando per Derrida per Lacan eccetera e che arriva in qualche modo a distinguere a fare una distinzione adesso ve la faccio vedere tra tre tipologie in qualche modo che sono l'esistente il vivente e l'umano ok allora ve la faccio brevissima perché d'altro sono brava controllo l'ora ok l'esistente è ciò che esiste che se ne sta in sé senza bisogno di nulla il sasso per esempio la bottiglia la sedia ok semplicemente esistente è ciò che sta in sé senza bisogno di nient'altro ok immaginatevi appunto la cosa più semplice di questo mondo un sasso ok e può essere rappresentato metaforicamente da un punto sta il sasso sta la bottiglia sta la pianta sta e sta lì ok no la pianta in realtà no la pianta è già vivente va bene ho fatto l'esempio sbagliato comunque un oggetto inanimato qualsiasi libro ok un libro sta lì è un punto non è che ha delle richieste il libro non ha dei bisogni ok il libro sta nel suo essere libro punto il secondo grado diciamo così quello di vivente giusto appunto immaginatevi per esempio la pianta che era l'esempio sbagliato di prima il vivente per stare in sé cioè per mantenersi vivo deve uscire da sé per esempio nel caso della pianta deve respirare deve respirare deve bere deve avere tutta una serie di nutrimenti dal terreno eccetera quindi deve uscire da se stesso il vivente per andare a cercare qualche cosa che gli manca e che non ha in sé è differente no? cioè è differente per esempio il sasso dal non so dal gatto ok il mio gatto altro che se ha bisogni no? ha bisogni e come? perché mi viene a svegliare la mattina presto quando ha fame salta sul letto se vuole che mi vada a dare l'acqua no? se vuole giocare se vuole eh farsi le unghie sulla mia poltrona eccetera cioè il vivente è quell'esistente che va fuori da sé per cercare qualche cosa che non ha ok? le tipiche esigenze del vivente sono mangiare e riprodursi ora il vivente è spinto dall'esterno qua la definizione è precisa dall'appetito per questo può essere rappresentato dall'idea di cerchio perché il cerchio perché il vivente esce da sé effettivamente quindi non può essere il punto che sta lì però la traiettoria dell'uscire da sé in realtà riporta sempre a se stesso immaginatevi parto da questo punto disegno questa traiettoria e poi ritorno in me perché questa uscita che io faccio da me stesso immaginate il gatto che ha fame il gatto che ha fame cosa fa? miagola ok? miagola richiamo la tua attenzione sei un gatto di città come il mio altrimenti va fuori in campagna si va a caccia di topi ok? comunque fa qualcosa fa qualcosa esce da sé richiama l'attenzione di qualcun altro o va a caccia mangia e ritorna in sé questa cosa che lui mangia e il cibo che ingerisce gli serve per mantenersi in vita non ha queste particolari diciamo velleità per cui il cibo deve essere cucinato in un certo modo preparato in un certo modo per esempio non è che il gatto non interessa il gatto ha fame e mangia ok? quindi questa apertura all'altro in realtà è qualche cosa che poi lo fa ritornare in sé stesso perché l'altro gli è utile nella misura in cui serve a soddisfare il suo bisogno fine ok? si suppone che l'essere umano abbia qualche cosa di differente cioè sia strutturato in maniera differente dico si presume perché qui infatti vi voglio far vedere un video che forse se non sbaglio forse qualcuno di voi ha già visto ma lo uso perché è utilissimo secondo me che è questo adesso vediamo se funziona tutto avrei riuscire a farvelo ah no ok scusate niente ho sbagliato ho sbagliato sì perché volevo farvelo partire da dove ho già impostato i sottotitoli ecco dovrebbe partire da qui vediamo se ditemi se vedete i sottotitoli se sentite l'audio cioè altrimenti social media is great it connects you to the world and the people you love you can chat with your family or share a meal with friends and watch cute little cats do unbelievable things look she sticks her head out of the box look she sticks her head out of the box but there are times when social media can get in the way of the real world remember that it's the thing that happens when you run out of battery that's why we've developed the social media guard it takes the social out of media and puts it back into your life let's see how it works you 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.